9. I giorni della settimana. Il lunedì. Il martedì. Il mercoledì. Il giovedì. Il venerdì. Il venerdì. Il sabato. Il sabato. La domenica. La settimana. La settimana. Da lunedì a domenica. Da lunedì a domenica. Il primo giorno è il lunedì. Il secondo giorno è il martedì. Il secondo giorno è il martedì. Il terzo giorno è il mercoledì. Il terzo giorno è il mercoledì. Il quarto giorno è il giovedì. Il quarto giorno è il giovedì. Il quinto giorno è il venerdì. Il sesto giorno è il sabato. Il settimo giorno è la domenica. Il settimo giorno è la domenica. La settimana ha sette giorni. Noi lavoriamo solo cinque giorni.